Ciao grandi, questa mattina facciamo il filiero Caprioli, sempre in Monterosso, in Val d'Arda. Io, mio fratello e un vino che l'ha in fondo che non riuscirete a vedere perché mi sa che la telecamera non è in quadro. Quindi andiamo, tutto in discesa, quindi sarà tutto in salita dopo. E vai. No. 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 Grazie. 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 Grazie.